Siamo a raccontare le storie come sono. Non c'è nessuna ispezione al Comune di Napoli, non c'è nessuno scontro tra il Sindaco di Napoli e il Prefetto di Napoli, dottoressa Gerarda Pantalone. Ognuno in piena autonomia fa gli atti che ritiene di fare. Ci siamo anche sentiti in queste ore col Prefetto. Perfetto, noi come Comune di Napoli, quindi gli uffici addetti all'anagrafe, l'avvocatura e poi l'intera amministrazione napoletana, ritiene di non dare seguito alla richiesta del Prefetto. Perché riteniamo di aver fatto un atto in linea con la Costituzione Repubblicana, in linea con gli ordinamenti giuridici più avanzati, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali europei e la legislazione stessa europea. Abbiamo cercato di dare diritti a chi non ha diritti nel nostro Paese per lacune legislative che si reiterano nel corso degli anni. Quindi secondo me su questi temi sarebbe corretto, soprattutto da anche chi ricopre incarichi importanti, non mettersi a fare politica, a cercare un consenso politico su questi temi. Qua è un tema che attiene alle persone, ai diritti e in questo caso a un bambino. Noi non siamo entrati sul tema delle famiglie in Italia, siamo entrati su un tema di riconoscere a un bambino dei diritti che nessuno aveva il coraggio di riconoscergli. E quindi ancora una volta chi sta in prima linea, in questo caso un sindaco e anche in altri casi è accaduto per vicende diverse, altri sindaci cercano di attuare la Costituzione colmando una lacuna legislativa insopportabile. Noi abbiamo garantito a Ruben di poter circolare liberamente, di poter avere l'assistenza sanitaria e di questi come Comune di Napoli ne andiamo fieri perché abbiamo riconosciuto libertà civili e diritti civili. Quindi credo che su questa vicenda bisogna continuarne a discutere, bisogna fare dei passi legislativi, dei passi amministrativi e se è del caso dei passi giudiziari. Nella lettera sta scritto che se il Comune di Napoli, un giro di sette giorni, non c'è nessuna ispezione, un giro di sette giorni non avesse fatto quanto la Prefettura richiede, evidentemente su disposizione del Ministro dell'Interno, noi vuol dire che adiremo l'autorità giudiziaria nel momento in cui la Prefettura farà quello che è anticipato ovviamente. Ma questo in un clima di assoluta serenità, almeno nei rapporti per quanto riguarda la serenità istituzionale, chiaramente perché quella la teniamo sempre, tra il Sindaco di Napoli e il Prefetto di Napoli. Questo ci tengo a dirlo perché altrimenti si montano dei conflitti istituzionali che almeno a Napoli non sussistono e non si incrineranno con riferimento a questa vicenda, dove sono due posizioni che sono diverse e ognuno ovviamente va avanti per la sua strada. Io non ho nessun attrito col Ministro dell'Interno, ho visioni completamente diverse sui diritti civili e sulle libertà civili. Alfano da Ministro dell'Interno, come dire, cavalca politicamente questa questione, dove secondo me qua c'è poco da cavalcare. Qua ci sarebbe da fare una legge, che il Parlamento e il Governo stentano a fare e noi abbiamo cercato, come ho detto prima, di riconoscere esistenza delle persone, in questo caso un bambino. Quindi noi non entriamo nella strumentalizzazione politica perché a noi interessano le persone, interessano i diritti e le libertà civili. E ci farebbe piacere che queste stesse sensibilità le potesse avere anche il Ministro dell'Interno. Ma ognuno si assume le sue responsabilità. Ovviamente non anticipo nulla. Vediamo che cosa farà il Prefetto. Nel senso che questa vicenda non è che finisce chiaramente nel caso in cui il Prefetto dovesse agire. Lo dico perché immagino lo farà, perché l'ha anticipato nella lettera, quindi non dico altro che quello che sta scritto nella lettera. Quindi credo che il Prefetto farà e io anticipo che se ci sarà quell'atto adiremo l'autorità giudiziaria.